L'ho intitolata Con cuore di Padre. Dio gli ha affidato i tesori più preziosi, Gesù e Maria, e Lui ha corrisposto pienamente con fede, con coraggio, con tenerezza, con cuore di Padre. Una vera vergogna di pregare. Signore, ho bisogno di questo, Signore, sono in questa difficoltà. Aiutami, il grido, il grido del cuore verso Dio che è Padre. Grazie a tutti.